Sono stati i ragazzi della Medici a Mini Basket a inaugurare stamani, subito dopo il taglio del nastro, i due campi da pallacanestro realizzati dal comune di Carmignano ai giardini pubblici di Via Redi e di Via Leopardi, dove sono già presenti attrezzature ludiche per bambini e campi da calcio. I due nuovi spazi, non regolamentari e dedicati alla pratica amatoriale, possono essere utilizzati in modo libero e gratuito. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport in tutte le sue forme, sia incentivando con dei contributi economici la possibilità di fare attività fisica nelle varie squadre, nelle varie discipline, ma anche realizzando delle strutture come i campini da basket che andiamo ad inaugurare che sono un piccolo tassello dentro una serie di strutture sportive che negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato sul territorio. Bellissimo sforzo facendo due campini più un altro in allestimento a Seano perché questi ragazzi possano fare attività all'aria aperta.